In 200 hanno dato l'assalto alla frontiera di Melì, all'enclave spagnola in Marocco. Respinti, una trentina di migranti si sono arrampicati in cima alla barriera metallica che protegge il confine europeo e ci sono rimasti per oltre quattro ore. Quando sono scesi, la Guardia Civile li ha consegnati alle autorità marocchine.